L'empatia tra di noi è totale, loro devono soltanto avere fiducia. Gli ultimi tre anni sono un percorso importante. Abbiamo fatto tre quarti posti, abbiamo fatto una semifinale di Europa League, una finale di Coppa Italia, perciò vi chiediamo soltanto fiducia. Noi abbiamo scelto un allenatore bravo e sappiamo che ci può portare in alto. La squadra è forte e perciò la fiducia nei confronti della famiglia della Valle è totale. Viettores, tu sai che noi amiamo la Fiorentina...